Buonasera, siete molto bene toccati e molto silenziosi. Il pianoforte è sempre stata la cosa la più importante nella mia vita musicale. Tutto è partito da lì quando avevo cinque anni e tutto comincia anche oggi da lì, al pianoforte. Tutto è cambiato e niente è cambiato allo stesso tempo. Per tornare in Italia, per fare ripartire tutto, ho voluto fare una cosa intima, però potente. Siamo nel buio quasi, quasi come una luce di candelle, in un posto che è quasi sacro per i milanesi, il palcoscenico posizionato sopra dell'acqua, tutto il castello chiuso per noi, questo bellissimo gesto per 200 persone, intimità. Ho immaginato uno show che porterò anche in Italia durante il mese di luglio, durante questi sei speciali concerti che farò, che è come se fosse una troupe feliniana. Cioè arriviamo e creiamo questo circo poetico, comedia dell'arte, tutto basato nel pop, nel rock, che fa ballare, che fa piangere. Tutto molto artigianale e spettacolare al stesso tempo. Arriviamo nelle vostre piazze, creiamo questa magia. Partiamo via. Arriverà a Cattolica, a Giulio, a Umbria Jazz, a Chieti, a Marostica, a No Borders, a Matera. Posso dire che ho scelto comunque dei posti abbastanza belli per il mio viaggio in Italia questa estate.